Ciao a tutti, scusate questo video è il buio, ma ho avuto qualche piccolo problemino a dormire, quindi sono un po' sconvolta. Niente, è per ringraziarvi per i 500 iscritti, grandioso, ce l'abbiamo fatta. E per chi pensasse che questo mio momento in cui mi si sono iscritti 18 iscritti nell'ultimo momento, così, e sono arrivata ai 500, e lo considerasse un momento di gloria, beh, faccia cura, sono d'accordo. Mi sono divertita tantissimo come sternichilista, e si andrà avanti, questo è soltanto un video per ringraziarvi dei 500 iscritti, e per quanto riguarda i contenuti, mi ripropongo un giorno di parlare del clima della Germania, e qualcosa in più, magari sulle spese, su fare la spesa in Germania, quanto costa il costo della vita, farò la spesa una volta e farò vedere quanto ho speso. Perché di solito vado a fare la spesa una volta alla settimana e basta, magari qualche spesuccia così durante la settimana, ma non più di tanto, la parte principale, diciamo, la parte del leone, la fa la spesa del sabato. Però, per quanto riguarda il canale invece in generale, continuerò a trattare temi molto leggeri, di intrattenimento, perché non ho intenzione di mettermi a fare i contenuti seri, almeno non prima di essere arrivata ai 1000 iscritti. Quindi, visto che ho considerato che YouTube non è assolutamente generoso, anzi io lo faccio più che altro al momento come hobby, e voi sapete che, o se non lo sapete ve lo dico io, ci sono due termini per passare alla monetizzazione. Il primo è il numero di iscritti, che ne serve almeno 1000, e ci stiamo lavorando. Però, chiaramente c'è moltissimo ancora da fare. E poi, il secondo parametro è il tempo di visualizzazione, cioè il tempo in cui l'utente sta lì veramente, effettivamente, a vedere il tuo video. E il mio sono tipo un terzo di quello che dovrei arrivare, sono molto più in basso. Però, anche è vero che c'è l'estate, le persone sono tutte da un'altra parte al mare, non stanno ad ascoltare me. Se vanno a vedere qualcuno, andranno a vedere gli influencer molto più grandi. Comunque, grazie a tutti per i 1000 iscritti. Io ho fatto volontariamente uno sforzo per arrivare ai 500 iscritti, anche a costo di scatenare l'inferno, perché sono preso un sacco di insulti. Che bello! Però, insomma, ho capito molte cose. Adesso so più o meno come funzionano certe dinamiche del web. Cioè, un giorno sei un figo, il giorno dopo sei un pezzo di merda, ambulante, bastardo, stronzo. E la cosa più assurda è che chi mi ha cacciata di superficialità, mi ha detto ho sbagliato. Che forse è la cosa che mi ha fatto girare i coglioni di tutto, cioè, girare i coglioni. Mi è venuta la mosca sul naso due secondi e poi se ne è andata via subito. Però sta tizia qua ha detto, eh, superficiale, bla bla bla, bla bla, bla bla, e si è messa un po' a discutere con un'altra. E poi dopo ha detto, ah, ma io non ho insultato nessuno. Beh, cazzo, già una sconasciuta che non ti ha fatto niente gli ha dato della superficiale. Ma io ci avrei pensato un attimino in più. Però evidentemente tu ti scusi da sola, ti perdoni da sola, cosa che io detesto. E io detesto gli scaricabarili. Io non sopporto gli scaricabarili. Se hai fatto una stronzata, no? Ho sbagliato, punto, colpa mia. Chiedo scusa, beh, chiedo scusa figuriamoci, fuori completamente dai suoi parametri. E non sei tu stata superficiale sentendo una persona parlare una volta? Tra l'altro stavo recitando e recito malissimo. Me lo dico anche da sola, lo so, ma non ho ambizione di diventare attrice. Questa cosa non impatta con la sicurezza che ho in me stessa. Hai detto di tutto e di più, cioè, mi hai dato della superficiale. Hai anche il tigerello dato con l'altro. Hai detto, uh, questa mi fa incazzare, quasi. E poi non è colpa mia. Ecco, questo è un atteggiamento del culo. È un atteggiamento del culo fare lo scaricabarile, soprattutto con me. Dico, no, no, la colpa è tua. Prenditi le tue responsabilità se hai le palle. Ma, evidentemente, avere le palle non è il suo forte. Diciamo che, nel caso di una donna, non si può dire avere le palle. Va bene, volete sostenere questo punto di vista? Non hai coraggio? Tu non hai coraggio. E vabbè, mi hanno detto di godermi il momento di gloria finché posso. Certo, sarà fatto, visto considerato che nella vita, gente, non è che ce ne sono tanti. E se la vostra vita è sempre stata un successo dopo l'altro, o per voi, io alla mia non ho tempo per invidiarvi. E poi è stupida. L'invidia è il difetto più stupido che ci sia. Tanto, cosa migliori della tua vita? E niente, comunque, ho visto dei bei commentini, ma intanto tutti i commenti che dite, no? Poi Mr. Nichilista li cancella. Se scrivete delle minchiate, lui li cancella. Se scrivete delle minchiate a me, o mi metto a ridere e vi metto il cuoricino, no? Per pigliarvi ancora per il culo, oppure vi cancello. Perché io sono una stronza. L'ho fatto apposta a scatenare tutto questo hater ancora prima di fare tutto quel casino con Mr. Nichilista. Perché sicuramente non avevo la forza negli iscritti per farmi pubblicità al libro. Ma scusate, ma voi scrivete un libro e lo mettete in commercio per non venderlo a nessuno? E poi è vero che io, nonostante il mio essere stronza, ho delle cose che tengo umanitarie, che ho tenuto a fare. C'era una bambina che non mi aveva fatto niente dall'altra parte del mondo, che aveva bisogno di aiuto, e io l'ho aiutata finché ho potuto. C'era volontariato da fare per un'istituzione e io ho pensato di farlo. Questo non contraddice in nessun modo il fatto che a me non piacciono i bambini. Perché se un bambino è da cascare, io non lo sento piangere. A me snerva quando piangono in modo isterico per delle ore. Mi snerva, che cosa devo farci? L'unica cosa che ho fatto correntemente con questo è non avere figli. Pensate che io abbia paura ad avere figli? Sì, certo, ho paura. Chi dice che non ha paura ad avere figli è un irresponsabile o un cretino. Perché già solo il parto è un evento abbastanza traumatico, penso. Se poi penso che devo partorire con una malattia cronica, con 500 conseguenze che possono succedere. Certo che ho paura, perché non sono pazza, almeno non per quello. Per cui, gente, io non vi capisco. Però mi sto divertendo tantissimo, perché non crediate che io me la sia presa male. E poi è vero, sì, nonostante il fatto che io sia materialista, cattiva, eccetera, ho restituito due portafogli. L'ho fatto perché non è roba mia, perché io voglio guadagnarmi soldi da sola e non voglio rubare niente a nessuno. E questo è compatibile anche con il diventare imprenditrice. Perché se uno ha un sacco di soldi, perché diavolo dovrebbe tenersi soldi di due portafogli. Perché mi è stato detto, ah, ti vedo bene come imprenditrice, trovi i soldi e non li restituisci. Scusate, Agnelli cosa se ne fa dei vostri 50 euro, per esempio? Non se ne fa un cazzo. Io non sono Agnelli, spero di diventarci un giorno. Sto ovviamente scherzando, adesso prendetemi sul serio anche per questo. E niente, mi sono divertita a recitare, a recitare, a recitare. È stato divertente. Ho proprio... Sono andata a fondo per quello che riguarda il mio simpatico narcisismo. Perché nonostante tutto, vedete, io perché diavolo dovrei odiarmi da sola? E come diceva il mio idolo, Arnold, se tu non hai fiducia in te stessa, chi ne avrà? Nessuno. Comunque, dopo tutta questa simpatica recita, quello che ho imparato è che veramente la gente... Ne avevo il sospetto, eh. Si dimentica di tutto, ti porta veramente dalle stelle alle stalle. Ma d'altra parte, in un paese in cui Berlusconi veniva considerato un pezzo di merda, di tutto e di più, adesso invece è rivalutato come grandioso presidente. Eh sì, le cose cambiano e in Italia ci si dimentica di tutto. Non vedo l'ora di fare una cazzata, grossa, enorme, e poi aspettare che la gente si dimentichi di tutto. Però con me non succede. A me rinfanciano ancora gli errori che non ho fatto di un anno fa. Cioè, è fantastico. Ah, già, 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 già. Un bacione. Dai, incazzatevi, incazzatevi, così io faccio visualizzazioni.